Siamo qui con Terron Fabio e volevamo fargli una domanda un po' cattivella, che tipo di rapporti hai con il pubblico del nord? Abbastanza bene. Quali sono le differenze tra gli ascoltatori del sud e gli ascoltatori del nord? Queste sono utopie, viaggi strani, perché il nord ha contribuito alla crescita del sud sound system, grazie anche alla gente che dal sud, essendo emigranti e facendosi un po' di amici, hanno passato le informazioni dando le cassette e i cd ai loro amici del nord. Da lì è nato tutto, la musica non è, secondo me, se non prendi parti o schieramenti, la musica è universale, dunque non ha un colore, perché noi sinceramente ai nostri concerti viene la gente che vuole il sud sound system, vuole stare bene con la musica e molte volte gente mista, il popolo, il popolo è tutto. Il buono, il cattivo, destra, sinistra, russo, giallo, poi chiaramente ci stanno degli ambiti in cui devi far valere la tua posizione politica, chiaro. L'unità d'Italia si vede e si sente, insomma. L'unità d'Italia a noi ha fatto solo casino, l'unità d'Italia, dunque... Da un punto di vista metaforico, insomma. L'unità d'Italia purtroppo non si vede e non si sente, perché noi siamo il frutto di una tentata di visione che non è avvenuta. La prima divisione che hanno tentato di fare con l'unità d'Italia è cancellare il dialetto, attribuire a coloro che parlavano il dialetto i peggiori appellativi, dall'ignorante al peggiore che si può trovare. Quando hanno compiuto il gesto più ignorante che potevano fare, invece di dire potete parlare due lingue, quindi essere più ricchi e poi eventualmente scambiarvele, hanno reciso le radici con quello che c'è stato prima, con la tradizione. Questo purtroppo si è tradotto in una divisione delle famiglie, perché guardate bene, il dialetto è il focolare, si parla e racchiude le famiglie, i clan, anzi li identifica. Togliendo il dialetto hanno tolto l'identità a tutta l'Italia. Il nostro rigurgito è stato qualcosa che proveniva forse dal DNA sicuramente, era una forma di riapprovazione attiva, e che oggi si traduce anche in una sorta di insegnamento, perché nel Salento, ti faccio l'esempio, il nostro esempio adesso viene reclamato e viene incitato anche da chi insegna, perché ritiene che il dialetto non sia soltanto un atteggiamento positivo, ma anche una banca dati, quindi un know-how, non solo un sapere, ma anche qualcosa di propositivo. Perché, ti faccio un esempio, la taranta è stata conosciuta per le sue capacità catartiche, curative, poi si è capito che non curavano il ragno, ma curavano dei mali, diciamo, umani, come la depressione, ma non soltanto malattie di chi viene, per esempio, violentato, come le donne, che spesso le tarantate erano donne che avevano subite violenze carnali o gli stessi uomini, la musica li curava, questi sono aspetti che bisogna capire, approfondire e conoscere di più, perché era ancora oggi, c'è sopraffazione e c'è violenza, e il dialetto contiene i rimedi per questi mali. E un'altra cosa, non è una medicina, quindi non fa male, così come dicono che la musica faccia bene alle piante, noi lo sappiamo, fa bene alle persone, quindi sarebbe il caso di approfondire questi aspetti scientifici della musica, questo poi lo dice un cantante, però sicuramente c'è chi sa molto di più delle sinapsi, delle cose chimiche. Grazie, grazie. Da qui a tutto, chiudiamo l'intervista, sperando di rincontrarli molto presto, insomma.